Siamo qui con tutta l'amministrazione comunale in questa ricorrenza che ormai è una tradizione che va avanti da molti anni, circa dagli anni 30 che questa ricorrenza accade ogni anno. Purtroppo il Covid ci ha costretti a farla da remoto, come si suol dire in questo periodo. Siamo riusciti a mantenerla grazie all'impegno di tutti che si sono veramente prodigati per far sì che questo evento possa ricorrere anche quest'anno. Il maltempo ha affermato la voglia di feste e sacralità a Carmiano. Pioggia, vento, freddo, hanno costretto a modificare il ricco calendario di eventi previsto dall'organizzazione e dall'amministrazione comunale in vista dell'accensione della foca di Sant'Antonio Abate. Ma in ogni caso è stato un momento di grande empatia trasmesso in diretta ad Antenna Sud. Noi ci stiamo mettendo veramente il nostro impegno per portare avanti certamente tutte le nostre tradizioni che abbiamo in questa piccola comunità. Certo il periodo non è un periodo straordinario, è un periodo di tristezza. Quindi noi in modo particolare ci siamo veramente messi tutti quanti insieme per non far mancare questo momento importante per tutti quanti. Qui accendere la focara che senso ha? Il senso proprio quasi di intercessione, di invocazione, di protezione, di voler vegliare. Perché non è che si accende il fuoco e la gente va via. Nel vedere anche quante persone si sono date appuntamento qui, dice come è radicata la tradizione. L'abbiamo voluto, l'abbiamo desiderato e in qualche modo l'abbiamo fatto. Con tanto dispiacere abbiamo dovuto dimezzare quello che era previsto per questa sera. Però grazie anche a voi di Antenna Sud siamo riusciti ad entrare nelle case vostre, nelle case di tanti per farvi vedere la bellezza delle tradizioni che noi ci onoriamo e ci impegniamo a portare sempre avanti.